Innovazione, Regione e Consolato Italiano San Francisco insieme per la promozione delle aziende toscane. Toscana in spot assegnate i premi dell'edizione 2023 dedicata alle dipendenze digitali, nel segno di erode dai diritti dei minori alla violenza di genere. Osterie d'Italia, Toscana protagonista La Regione Toscana e il Consolato Generale d'Italia San Francisco insieme per promuovere e valorizzare l'ecosistema toscano dell'innovazione all'estero. E' questo in sintesi l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato giovedì tra la sede diplomatica italiana in California e i rappresentanti di giunta e consiglio regionale. Un protocollo che unisce la California con la nostra Toscana. E' un modo per costruire connessioni, ponti per dare nuove opportunità alle imprese, specialmente quelle high-tech e costruirgli uno spazio virtuale di incontro con gli investitori della Silicon Valley. E' un'occasione bella perché la Toscana non è solo una terra di cultura, di arte, ma è anche una terra dal grande ingegno e oggi qui sigliamo l'inizio di un nuovo futuro insieme. Noi dobbiamo accelerare sul fronte dell'innovazione tecnologica, sapere che il nostro sistema produttivo deve intraprendere un percorso non solo di uso delle nuove tecnologie, ma se possibile contribuire anche allo sviluppo delle tecnologie per le nostre produzioni, non solo quelle più avanzate, ma anche e soprattutto affiancare la tecnologia alle produzioni tradizionali. Questo è quello che possiamo cominciare a fare proprio dopo la firma di questo protocollo. La Regione Toscana è stata la prima ad avviare una partnership con il Consolato e 18 start-up toscane stanno già partecipando a un programma di training a San Francisco. E' un caso in cui la collaborazione è iniziata ancora prima della firma di un documento formale, collaborazione che è stata avviata proprio con le prime missioni, già da settembre, della Regione Toscana qui a San Francisco e che ha oggi questo momento formale di firma, di un protocollo di collaborazione che si estende proprio a tutti i settori ed è teso a far sì che tra la Regione e il Consolato generale ci sia un dialogo costante nell'individuare nuovi campi di collaborazione, nuove modalità di collaborazione, ovviamente attraverso INNOVIT, che è il nostro nuovo Italian Innovation and Culture Hub in San Francisco, in campo business, start-up, quindi innovazione, tecnologie nuove, ma anche in campo culturale. Quindi nel 2024 abbiamo già in programma alcuni eventi e attività molto importanti che porteremo avanti insieme con Solato generale e Regione. Si intitola Offline e mette a confronto la costrizione del consumo digitale con la libertà della vita lontano dai device il video della ventimenne Chiara Rossi che si è aggiudicato la decima edizione del premio Toscana in spot 2023 in dipendenze digitali. Il riconoscimento promosso dal Corecom era dedicato quest'anno al tema del contrasto alle dipendenze dalla rete e dall'universo digitale. Ho presentato uno spot che appunto riguarda il tema delle dipendenze, indipendenze digitali e con appunto la mia attrice abbiamo realizzato questo spot dove lei praticamente si trova appunto tutti i giorni a casa che sta con il telefono e a un certo punto improvvisamente si ritrova in un luogo totalmente desolato e diciamo che appunto il messaggio è quello di guardarsi intorno ed evitare di stare sempre al telefono perché appunto poi dopo ci perdiamo quello che succede intorno a noi. Tra le finalità del concorso quella di lanciare attraverso il linguaggio audiovisivo un messaggio sui pericoli delle dipendenze e dei disturbi psicologici e fisici che media digitali possono generare. Questa iniziativa che manda e vuole mandare un messaggio forte evitiamo di diventare dipendenti dalle nuove tecnologie indipendenze digitali viste con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani questo messaggio è un messaggio forte che vuole mandare tutta l'assemblea legislativa le tecnologie sono importanti svolgono un luogo fondamentale nel cambiamento delle nostre comunità ma vanno gestite vanno guidate vanno indirizzate cercate di vivere prendendovi tutta la bellezza del mondo in grado di portarvi nella bellezza c'è anche la possibilità di navigare liberi e conoscere il mondo ma non fatela diventare una dipendenza perché la linea di demarcazione è sottile e solo la cultura, una cultura che può partire dalle scuole può insegnare e può indirizzare specialmente i più giovani ad andare in una direzione differente da quella che purtroppo si sta prendendo in questo tempo i tre migliori spot si sono aggiudicati 5, 3 e 2 mila euro in base al posizionamento sul podio anche quest'anno sono state numerosissime le adizioni al concorso lanciato da Corecom anche quest'anno sono arrivati tanti video da tutta la Toscana soprattutto di ragazzi e ragazzi che appunto si sono cimentati su questo argomento che avevamo messo in evidenza che era quello appunto delle indipendenze digitali in questo senso per noi è un tema centrale per quanto riguarda il Corecom perché il tema di sensibilizzare le nuove generazioni non solo su questo tema su questi strumenti, su queste competenze è un elemento importante di valore e di mission generale del Corecom La violenza di genere si combatte anche diffondendo la cultura dei diritti umani tra i giovanissimi e questo è il messaggio che lancia la scrittrice Marina Pratici nel suo nel segno di erode diritti dei minori o diritti minori il libro edito da Edizioni Helicon presentato nei giorni scorsi a Palazzo del Pegaso Noi ci siamo posti sempre un obiettivo da quando è iniziata questa legislatura dare più voce a chi ha meno voce costruire le condizioni perché tutti possano avere gli stessi diritti non solo nei comuni più grandi ma anche in quelli più piccoli non solo in Toscana ma nel resto del mondo noi abbiamo un garante, il garante dell'infanzia che ha il compito proprio di seguire tutte le vicende che riguardano i bimbi della nostra regione per garantire a tutti gli stessi diritti e aver portato oggi questo libro qui ci pone ancora più attenzione su un tema importante che è un tema che riguasta la nostra terra ma che in tante parti del mondo è ancora più forte che qui da noi Un libro tenuto a battesimo dalla prima commissione del Consiglio regionale Un libro importante che nasce da un'esperienza di condivisione quello che Marina Prati ci presenta oggi in Consiglio regionale un testo che riesce a parlare del tema dei diritti anche in senso ampio lo ricostruisce nella sua evoluzione storica fino ad arrivare ai giorni nostri anche alle problematiche collegate all'emergenza di nuovi diritti nella società contemporanea per poi focalizzarsi su un tema così forte e delicato come quello della tutela dei minori vissuta in tutte le sue sfaccettature un testo quindi che dà l'occasione anche di riflettere e che può essere uno strumento molto utile anche per il progresso della nostra civiltà Una cultura, quella dei diritti, che può essere un valido antidoto contro la violenza di genere Si parla molto opportunamente, meritatamente di violenza violenza di genere in primis ed è il caso ma la violenza di genere nasce poi da come nell'infanzia, nell'adolescenza siamo abituati a considerare noi stessi quali soggetti portatori diritti io vado spesso per la mia professione ma anche perché vengo invitata nelle scuole mi sento dire spesso, troppo spesso, da ragazzine giovanissime ma è normale se lui mi dice così parlo di offese pesanti, di oltraggi, di offese massimamente sessiste non è normale ma se noi non diciamo non è normale a una quattordicenne, a una quindicenne, a una sedicenne noi prepariamo un terreno fertile, creiamo l'humus per la violenza di genere un domani ecco dunque l'importanza di fare una cultura dei diritti umani già in giovanissima età 1752 locali tra osterie, agriturismi e enoteche recensiti da oltre 230 collaboratori per un viaggio nella ristorazione del bel paese è la ricetta di osterie d'Italia, la guida al mangiar bene presentata nei giorni scorsi a Palazzo del Pegaso l'osteria è un luogo della Toscana l'osteria è un luogo in cui stare bene un luogo in cui andare con la propria famiglia e in questa guida si vede quanta Toscana ci sia 136 osterie, 28 chiocciole che danno il senso di quella che è la capacità di questa terra di produrre soluzioni, prodotti sostenibili, di lavorare sulla biodiversità in questi anni si è fatto tanto, ancora si può fare perché la Toscana in questo campo vuole continuare ad emergere la guida nazionale delle osterie d'Italia Slow Food un presidio importantissimo nella nostra regione che dà non solo qualità dà quella energia a tutti coloro che promuovono e che lavorano su questa guida rapportata al valore del cibo della nostra regione che ha una valenza incredibile perché richiama quel lavoro dell'uomo nel mettere mano ai cibi con le caratteristiche territoriali della nostra regione una guida che premia la qualità il legame con il territorio e l'accoglienza con la Toscana protagonista anche quest'anno la Toscana è la regione con il maggior numero di locali recensiti ma anche il maggior numero di chiocciole in particolare una chiocciola di cui siamo molto molto felici che è quella data a un trippaio per cui una delle novità di quest'anno è che i riconoscimenti come la chiocciola la bottiglia e il bere bene che sono dei riconoscimenti storici l'ultimo un po' meno sono dati anche quei locali che noi definiamo locali degli inserti ovvero locali che non sono osterie ma che raccontano una specificità gastronomica regionale che si può trovare soltanto in questa regione quindi tra tutti gli inserti c'è ovviamente quello di Trippai Piorentini e abbiamo, anzi la squadra ha deciso di premiare Leonardo Torrini proprio per il livello di qualità e di racconto anche storico che fa per questo specifico tipologia di attività abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinario che dà spunto ai nostri ristoratori per fare un lavoro eccellente nelle loro osterie prima si diceva che in Toscana si sta bene sì, si sta bene le persone vengono in Toscana per stare bene vanno nei locali per stare bene infatti i locali che sono in guida sono locali accoglienti perché questa è la vera forza delle osterie che noi mettiamo in guida e gli osti che sono lì presenti sono osti che hanno a cuore il loro territorio hanno a cuore la sostenibilità del proprio territorio e promuovono le produzioni agricole e artigianali del territorio dove loro stanno e quindi fanno un'operazione non solo gastronomica ma un'operazione estremamente culturale alla presentazione della guida ha partecipato anche il Vice Presidente del Senato le osterie rappresentano qualità perché hanno dei prodotti di altissimo livello e legati alla tradizione e quindi la tradizione dei piatti della nostra cucina e soprattutto i territori da dove arrivano non c'è un'osteria uguale all'altra non ci sono dei franchising non ci sono delle multinazionali che gestiscono osterie ma ci sono famiglie legate al territorio legate alla tradizione e legate ai prodotti locali quindi benvenga Slow Food quando valorizza e lancia guide come queste Per questa edizione è tutto vi ricordo che le informazioni sulle attività del Consiglio regionale il calendario delle sedute, delle commissioni e i link per seguire le dirette dall'Aula sono a disposizione sul sito all'indirizzo consiglio.regione.toscana.it Grazie a tutti Grazie a tutti.